Per le persone da 79 a 60 anni, il sistema sanitario regionale definisce il calendario di offerta vaccinale, procedendo in ordine di anzianità e sulla base della disponibilità dei vaccini. Non è necessario prenotare, chi vuole vaccinarsi deve soltanto accedere al servizio e confermare la propria adesione per visualizzare data e luogo dell'appuntamento. Le adesioni partono dal lunedì 29 marzo alle ore 14. Ci sono tre modi per aderire alla campagna vaccinale, attraverso la piattaforma lapugliativaccina.regione.puglia.it, il numero verde 871 39 31, farmacie accreditate al servizio Pharmacup. Dal 29 marzo si parte con le adesioni dei nati dal 1 gennaio 1942 al 31 dicembre 1943 e poi via via verranno sbloccate le altre fasce di età in base alla disponibilità dei vaccini. Per effettuare l'adesione è necessario essere muniti di tessera sanitaria, codice fiscale e recapito telefonico. Le vaccinazioni partiranno dal 12 aprile e saranno fissate nel lab più vicino alla residenza del cittadino. L'avvio delle vaccinazioni per le persone con elevata fragilità è previsto dal calendario vaccinale il 29 marzo. In Puglia sono già partite.